Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione sportiva di Telesveva, apertura dedicata ovviamente al calcio di Serie C e agli incontri della quattordicesima giornata. Vediamo con l'ausilio della grafica come è andata. Catanzaro Cavise 1-1, Juve Stabia Bisceglie 2-0, Monopoli Matera 1-0, Paganese Vibonise 1-1, Potenza Virtus Francavilla 3-1, Regina Rieti 3-2, Viterbese Trapani 2-2, Rende Casertana 0-1, Siracusa Sicula Leonzio 0-0, ha riposato il Catania. La classifica, sempre Juve Stabia in testa con 32 punti, Rende secondo con 27 punti, Trapani terzo con 26, Catanzaro e Catania 24, Casertana e Vibonise a 21, Potenza 20 punti, Monopoli e Sicula Leonzio a 18, Cavise Regina 14 punti, Virtus Francavilla 13, Siracusa 12, Viceglie 11, Rieti 10, Paganese 4 punti, Matera 3 punti, chiude la Viterbese con 2 punti. Troppo forte la capolista Juve Stabia per il Bisceglie, a secco di vittorie da nuove turni, un successo per parte invece nel doppio incrocio Appulo-Lucano, Monopoli, Batte e Matera, Potenza supera la Virtus Francavilla. Pronostico rispettato sul sintetico del Romeo Menti di Castellammare di Stabia e di certo non è una buona notizia per il Bisceglie che partiva sfavorito alla vigilia. Nulla di fatto per la squadra di Ciro Ginestra nella proibitiva trasferta contro la Juve Stabia, capolista del campionato di Serie C ed unica realtà del girone meridionale. A non aversi in cui mai conosciuto la parola sconfitta, i pugliesi reggono per quasi un tempo, poi le vespe campane pungono prima del riposo con Di Roberto e raddoppiano per il definitivo 2-0 nel finale di gara con Elia. Diventano così nuove le partite consecutive senza successi per i nerazzurri, situazione di classifica inevitabilmente complicata per i biscegliesi che mercoledì prossimo alle ore 14.30 torneranno in campo per sfidare in trasferta la Vibonese nel recupero della quarta giornata. Un successo pugliese ed uno lucano invece nella doppia sfida incrociata del quattordicesimo turno. Continua il momento estremamente positivo del Monopoli che batte il Matera con un gol nel finale di Gerardi e consolida il proprio piazzamento in piena zona playoff. Nulla di fatto invece per la Virtus Francavilla che si arrende con il punteggio di 3-1 al Viviani contro un Potenza in forte ascesa. Lucani avanti dopo pochi minuti con Franza. Lucani che raddoppiano prima del riposo con Sales. Lucani che si concedono il 3-0 in apertura di ripresa con Guaida. Inutile intorno all'ora di gioco la rete di partipilo per gli ospiti che hanno collezionato un solo punto nelle ultime tre esibizioni ufficiali. Apriamo ora un'ampia pagina dedicata al campionato di Serie D cominciando con i numeri della tredicesima giornata. Iniziamo dal girone H dove il Cirignola batte il Gelbison 3-0, Bitonto, Ercolanise 5-0, Pomigliano, Picerno 0-1, Fasano, Fidelisandria 1-1, Gragnano, Nardò 0-0, Nola, T-Maltamura 3-1, Sorrento, Sarnise 1-1, Taranto, Francavilla, Insinni 2-1, Savoia, Gravina 3-1. La classifica, Picerno in testa con 29 punti, seguito dal Cirignola con 27, poi Bitonto e Taranto con 23, Nardò a 22 punti, Fidelisandria a 21, Savoia a 19, Francavilla, Insinni e T-Maltamura a 18, Fasano a 17, Gelbison a 15, Gravina, Nola e Sarnise costituiscono il gruppo a 14 punti, poi Sorrento a 13, Gragnano a 11, Ercolanise a 8, chiude il Pomigliano con 7 punti. Le squadre con l'Asterisco una partita in meno, il Girone invece il Bari vince in casa contro la Nocerina 4-0, Cittanovese Portici 2-1, Acireale, Città di Messina 2-2, Locri, Castrovillari 1-2, Marsala Palmese 0-2, Messina Troina 2-2, Rotonda, Igea Virtus 1-2, San Cataldese a Rocella 3-1, Turris Gela 5-1. Bari sempre saldamente in testa con 33 punti, seguito dal Turris con 27, al terzo posto Palmese, Nocerina e Marsala con 22 punti, Gela 20, San Cataldese e Portici a 18, Castrovillari, Cittanovese e Locri a 17, Troina 15 punti, Acireale a 14, Roccella e Città di Messina a 13, Igea Virtus e Messina al penultimo posto con 9 punti, chiude il Rotonda con 6. Finisce 1-1 il derby tra Fasano e Fidelisandria giocato al Vito Curlo, i biancazzurri di Alessandro Potenza inizialmente in vantaggio, collezionano il decimo risultato utile di fila. Finisce pari e pat tra Fasano e Fidelisandria il derby della tredicesima giornata del torneo di Serie D, un pareggio che significa decimo risultato utile consecutivo per la formazione biancazzurra e striscia positiva allungata. Per il tecnico Alessandro Potenza assenza per squalifica di Adamo ma in campo ci va un 3-5-2 con Aina e Cristaldi in avanti e l'inserimento dal primo minuto di pari di Adario Capitano in porta, oltre che di De Filippo sulla fascia sinistra. Panchina per Paparus e Bozic appena rientrati dai rispettivi infortuni assieme a Porcaro. Nel Fasano invece c'è un 4-2-4 con il temibile ex Nadarevic e Corvino sulle fasce ad assistere in avanti anche Montaldi e Formuso per una squadra di la terza attrazione decisamente anteriore. Circa 300 i tifosi biancazzurri giunti al Vito Curlo per sostenere la squadra andriese ma primo tempo che non offre grandi emozioni. Dopo qualche minuto di studio ci provano subito i padroni di casa, prima con un liscio di Cristaldi su angolo di Corvino ben disinnescato da Adario e poi con Nadarevic che con il suo tiro cross impegna la difesa ospite costretta a rifugiarsi in angolo. Ma al primo affondo passa la Fidelis, 21 giri di lancette e Petruccelli, pennella in area di rigore per il preciso colpo di testa di Francesco Forte, abile a battere guarnieri. La squadra di casa in realtà subisce il colpo e non trova la reazione giusta subendo ancora la pressione ospite al 38esimo con Bortoletti che dopo aver recuperato palla a centrocampo si invola verso l'area di rigore ed il cross per Cristaldi viene anticipato di un soffio in corner da Diop. Niente più da segnalare per il primo tempo mentre la ripresa si apre con gli stessi 22 in campo e Fidelis subito in avanti con una occasionissima e Aina ad avviare un'azione di contropiede perfezionata da Petruccelli per lo stesso attaccante numero 11 che si fa ipnotizzare però da guarnieri e tutto solo manda a lato. La reazione del Fasano arriva al 15esimo con Montalli che dal limite dell'area di rigore calcia ma a Dario para i padroni di casa alzano il baricentro ed il tecnico la terza indovina la mossa giusta dalla panchina. In campo ci va Serri per Nadarevic dal 24esimo e proprio l'esterno fasanese raccogliere un cross di Diop ed abbattere a Dario e pari per il Fasano ma la squadra ospite prova subito la reazione ed il neo entrato Stranges per uno stanco Aina si incune in area di rigore salta due uomini e calcia ma la palla è al lato di pochissimo non succede praticamente più nulla se non nel terzo dei quattro minuti di recupero un'azione sicuramente da Moviola e Zingaro a strattonare il neo entrato Gomez Forbes in area di rigore ma l'azione viene fermata per una posizione di fuorigioco. Il direttore di gara però ammonisce nuovamente il terzino classe 2000 andriese e lo espelle per somma di gialli nonostante l'azione fosse già ferma. Finisce senza più sussulti e tra gli applausi dei tifosi per un bel derby che anticipa un doppio impegno casalingo per la formazione bianca-azzurra a distanza ravvicinata contro Nole e Sarnese. Il fasano invece replica il punto conquistato mercoledì scorso contro il Taranto ed allunga la striscia positiva. Il Bari segna e diverte al San Nicola contro la Nocerina nel poker bianco-rosso da segnalare il gol al Cassano di Floriano. Una bella coreografia della Curva Nord fa da cornici alla decima vittoria stagionale del Bari. Al San Nicola la Nocerina tra le squadre più attrezzate del girone perde 4-0. Cornacchini schiera la formazione annunciata col 4-4-2. Le lancette del cronometro non fanno nemmeno un giro completo e Floriano porta in vantaggio il Bari. Lancio di Piovanello, il numero 7 aggancia, salta caso in velocità, dribbla il portiere Feola e segna proprio sotto la Curva Nord. Gli ospiti sorpresi provano a riorganizzarsi e al dodicesimo un cross basso di Ruggero attraversa pericolosamente tutta l'area piccola del Bari. Ma al sedicesimo i bianco-rossi ben messi in campo raddoppiano. Floriano restituisce la cortesia a Piovanello e il giovanissimo centrocampista fa secco il portiere campano 2-0. Pochi minuti dopo la Nocerina prova a riaprire il match. L'arbitro Zucchetti fischia un rigore per fallo in aria di Mattera su Cioffi ma sul tiro dal dischetto di Simonetti Marfella dice no. Piovanello, Floriano e Simeri sembrano scatenati. Al ventinovesimo un bel destro morbido dal centravanti finisce di poco fuori. E lo stesso Simeri due minuti dopo a provarci dalla distanza alto. Al Bari riesce tutto, anche i leziosismi. Lo dimostra la Veronica di Di Cesare che al trentacinquesimo innesca così l'azione d'attacco e pochi secondi dopo la conclude in gol grazie ad un preciso assist di Simeri. 3-0. La Nocerina è frastornata ma prova a giocare. Non va però oltre questo tiro facilmente parato da Marfella al trentasettesimo. Simeri ci prova in tutti i modi, è spettacolare ma non fortunato al trentanovesimo con un tocco sotto che non inquadra la porta. La prima frazione si chiude con questo tentativo di Piovanello facilmente parato da Feola. La ripresa si apre con una doppia occasione del Bari. Al quinto il portiere ospite prima si oppone ad un tiro di Floriano, poi sugli sviluppi dell'azione si deve superare per mettere una pezza su Nannini. La Nocerina prova a restare in partita e qualche volta si affaccia timidamente dalle parti di Marfella come al decimo con Ruggero. Bollino non è un caso, aveva detto alla vigilia Cornacchini e al diciottesimo lo manda in campo. Il Bari continua a macinare gioco e ci prova con Amlili al diciannovesimo e con Simeri al ventunesimo. Il gol arriva però tre minuti dopo proprio con Bollino che si fa contrastare un primo tentativo ma il tiro successivo è un bolide imparabile, 4-0. Simeri costruisce tanto ma spreca altrettanto come al ventottesimo quando supera un avversario ma si fa parare il tiro. Fino al triplice fischio solo tante sostituzioni e l'ennesimo tentativo senza fortuna di Simeri che questa volta si infrange sul palo. Il Bari resta più sei sulla Turris e domenica sarà di scena a Portici. Sorpreso no, sono stato felice perché a parte che siamo stati bravi, sono stati bravi i ragazzi alla prima occasione che hanno avuto a fare una ripartenza, a fare un bellissimo gol. È chiaro che nel momento in cui tu fai i gol gli altri si devono aprire un pochettino e le caratteristiche nostre sono quelle che nel momento in cui ti apri è chiaro che avendo giocatori di tecnica e di velocità le cose vanno meglio. C'è poco da dire, non si vede neanche in Serie B e neanche forse in Serie A certe cose. Come ho detto prima pensiamo ad andarci il prima possibile via da questa categoria e speriamo di riportare come ho detto prima il Bari almeno in Serie B ma anche per questa gente perché penso che se no meglio. Chiudiamo con i numeri della tredicesima giornata di eccellenza. Sempre con l'ausilio della grafica vediamo i risultati. La classifica a Casarano in testa con 24 punti. Brindisi secondo con 24 punti, Barletta a 23, Forti Saltamura a 22, Atletico Vieste e Gallipoli a 21 punti, Terlizia a 20, Vigortrani a 19, Molfetta Calcio a 18, Otranto a 16, Avetrana a 15, Corato a 14, Uccibicelli a 12, Molfetta Sportiva, Sanseviro e Mesagne fanno il gruppo che chiude la classifica con 8 punti. Le squadre con la serisca ovviamente una partita in meno, solito triplo appuntamento di oggi con il palinzesto sportivo di Telesviva alle 21 si parlerà di Andrea Impane, Amore e Fidelis e di Bari alle 23 con il Galletto Mandei, alle 15 torna invece eccellenza di Puglia ed è già pronto in studio Mario Borracino per le anticipazioni della puntata di oggi. Eccomi qui Michele, ci siamo anche per questo lunedì, pochi minuti ancora e poi partiremo con la tredicesima puntata di eccellenza di Puglia per analizzare il fine settimana calcistico delle formazioni pugliesi, l'Andria fa 1 a 1 Fasano e colleziona il decimo risultato utile di fila, Cerniole e Bitonto vincono in casa, perdono in trasferta contro l'Aversa dei Campani invece il Gravina e il team Altamura. Nel campionato di eccellenza il Casarano batte in trasferta il Brindisi e ritrova la vetta solitaria, gran vittoria 4 a 3 del Trani con il Corato mentre finisce 1 a 1 tra Molfetta Calcio e Barletta. Di questo e di tanto altro parleremo nel nostro appuntamento, verranno a trovarci Nicola Loiodici, attaccante del Cerniola Saverio Bufi, direttore generale del Molfetta Calcio e Gino Zinforino l'ex allenatore del Corato. avremo tante immagini da proporvi, tanti collegamenti telefonici e video e l'ora vi aspetto a partire da ore 15 per un'altra imperdibile puntata di Eccellenza di Puglia. E con questo è veramente tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.